Bella raga Bentornati in questo nuovo video di roga click Non avevi detto sinistra Non la potevo prenderla mai Turbo mio Dai era dritto Mi importa Esplosa Eh lo so Grande La prende No Eh perché l'hai mosso L'ho detto va dio Ah l'hai letto messa No 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 Sì O Alex puoi venire indietro Ok Vado io vado io Ce l'ha presa lui però Sempre dallo stesso giocatore però Perché mi sta sulle valli Pure al freddo No l'ho presa Sì Sì Alleva ti stimo se la levi Ti sti No L'ha però il culo Belle va Dai Non è bene Non è No Sì 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 Oh oh Vado 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 Destra Gollo No No Vado a ritraverso Sinistra Bravo Bravo Vado a mettere mezzo No Non l'ho presa Bravo Ale Se puoi Se puoi No No Io la volevo levare Ma hanno fatto il biardo Tiene la breakout personalizzata Sì Sì La breakout Le so La breakout Ehm Oh Calmiamoci Calmiamoci Vai tu Con me Come prima dicevamo io Sì Alzap Perfetto Ecco Ecco Se la leva Tu No Ayu Però Oh Ma che la leva Così Questo Vai Vai Va boh Vai Va dio Eh L'ha presa Prima lui Ovviamente Sì Belló Vale Sì क Sì S Fold Sì 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 tame Sì Sì Come l'ho parata No Non del tutto Non entrare del tutto No Per te Non la potevo prendere No alza Finiamola 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 Sì Ma abbandonare Almeno un golo ce l'ha Sì va bu Ah però chissà Però tengo Eh sì Mi spengo l'uno Mi spengo l'uno Toccassi due Guarda Sta da fare cose personale Chissà Grazie Grazie Sì, io sono sempre a chiudere il bambino di fort. Sì. ma via ahahah abbassate vai tu a sinistra a sinistra ah ok devo andare a sinistra devo andare e si va ah ah quanto è bello giocare quando non trovi i giocatori che giocano giocano tra poco sono anche sfidanti ma quando mai ma che livello sei tu 131 159 credo 159 ma tu giochi da più tempo di me cosa c'entra c'entra non c'entra si uno che gioca da un mese fa il livello 300 me lo spieghi ma ma non c'è andato ma non c'è andato ah quell'altro di là guarda quell'altro di là come sta la camera 156 si aiuto è dentro ma che precisione quelle lì che ho io gialla sinistra 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 no si no wow è appunto ehm l'ho presa l'ho presa oh questo che si fa hard dribbling nella porta sua cosa c'entra adesso cosa c'entra adesso vai l'ho presa bene non è non è l'ho presa l'ho presa c'è l'assist di come si chiama l'ho presa? destruccion l'assist di destruccion un po' forte un po' forte meno male che ha fatto pure gol si è diventata ah oh si ehm mamma mia che pro a pedale mamma mia che pro micchia una bomba eh su sta maronna si deve fare veloce double touch sinistra ehm fra fra rrrrrrrr ahahahahahah sping no 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 questo che stavo facendo noia mannaggia carinella mannaggia appena cipolletta o ti immagini ci sta guardando il video no ma lo so fare se la prendevi ti squartavo malissimo ma con michael jackson che si fa un prem prom no vai mi sta troppo è allo stesso tempo l'ho fatto pincio in pratica se la metti sopra lì ma alle ti stimo ma manca morto bello buono io chissi può fare il tutto meno male che l'hai presa vivi nell'aria da notare nessuno che ha lasciato nooo oh mio dio vai vai godo no come ha parato ma manca lui secondo me lo so come ha parato vai Ale oh mio dio dai che culo che abbiamo oh do cazzo se non dolivo eh si questo è gollo dai fra fra no 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 due secondi due secondi avevi fatto gollo due secondi avevi fatto gollo aiuto mi serve un un turbo ma un poco oh oh e no me l'hai levato me l'hai messa quella bella te la volevo mettere in mezzo però mi sa che non ti ho avvisato non ti avevo avvisato no questo cosa stavo facendo wow stavo facendo un air di bling della madonna oddio oddio eh ti giuro me l'hai remesso adesso oh bo è il dribbling che è girare in volo bravo no ho visto solamente uno psicopatico che ha lisciato un po' troppo appunto no appunto ma infatti ma bo io gg oh siete youtube si si adesso è pazza bloc bloc ma perché mi censura il nome sti pezzi scroll si ti ho detto hai capito bambino ti ho detto di si sono un toscritto si saluta loco li abbiamo schiattati però schiattati schiattati no schiattati no sanno giocare però ti stimo c'è 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 io dico sto a fa un video las ma ma spero che questo video vi vi è piaciuto se vi è piaciuto oscite c'è iscriveteci e vediamo alla prossima bella ragazza